La bilancia, bella luna, tutto sommato, un segno dello scorpione, una luna che vi fa diventare anche più generosi nei confronti del partner, delle persone che amate. Poi questa è la classica giornata in cui avrete anche voglia di mettervi ai fornelli, perché voi, bilancini, siete anche abili tra i fornelli, però spesso e volentieri siete un po' troppo piccoli. Poi invece questa è una giornata in cui vi sentirete ispirati anche sotto questo punto di vista, quindi giornata ideale per invitare un amico a cena, un'amica a cena o anche dei parenti.